Amici di Onda Libera siamo nella periferia di San Costanzo a casa di Vanda Sanchioni siamo qui per conoscere la pianta dell'Aloe andiamo a vedere di cosa si tratta buongiorno a tutti e vorrei adesso raccontarvi un po' come è nata questa passione verso la pianta dell'Aloe alla fine degli anni 90 io e mio marito ci trovavamo ad un convegno in Liguria e girando per vivai siamo capitati in un vivaio di sole piante di aloe e siamo entrati e c'erano due tipologie di pianta la vera e l'arborescence ci siamo un pochino informati con la proprietaria e la signora ci ha spiegato che era una pianta medicinale questa cosa mi ha incuriosito naturalmente abbiamo chiesto delle informazioni ci ha parlato anche di un frate di padre romano che cura con questa pianta e beh da lì a poco siamo partiti con una pianta di aloe arborescence anche noi abbiamo portato a casa e da lì è nata la nostra coltivazione e in questi anni diciamo in questi 15 anni le piante si sono propagate e fino ad averne adesso una serra ora vi mostrerò la mia serra e vi spiegherò come coltivare le piante le tipologie di aloe sono diverse e nello specifico ne abbiamo cinque abbiamo l'aloe arborescence miller di queste tre tipologie comunque le più utilizzate in italia diciamo e quindi anche dalle nostre parti sono l'aloe arborescence miller l'aloe vera barbadensis e l'aloe saponaria partirei proprio da quest'ultima dall'aloe saponaria perché forse tra le tre tra i tre tipi di aloe è quella un po meno conosciuta e invece ha delle caratteristiche al suo interno non da di poco conto nello specifico questa foglia la pianta della dell'aloe saponaria viene utilizzata soprattutto per curare ustione ustioni solari scottature tutte quelle scottature che ci si procura anche in casa in cucina e soprattutto è utilizzata contro le punture degli insetti zanzare nello specifico ma un po tutti gli insetti ecco l'utilizzo è molto semplice perché basta aprire una foglia e spalmarsi il gel contenuto al suo interno dove siamo stati punti o dove abbiamo avuto un'ustione una scottatura per quanto riguarda l'aloe arborescence invece dobbiamo dire che tra tutte forse è la pianta che ha per il cento per cento i suoi principi attivi e con l'aloe arborescence si fa un preparato aloe, miele e grappa che è curativo contro tante patologie in maniera molto semplice vorrei dire che la pianta dell'aloe arborescence aumenta le nostre difese immunitarie quindi questo è già un bel biglietto da visita diciamo per la pianta l'aloe vera anche l'aloe vera ha anche l'aloe vera ha i suoi benefici soprattutto l'aloe vera la troviamo commercializzata ecco troviamo il succo di aloe vera in commercio oggi e perché questo perché non troviamo il succo di aloe arborescence chiaramente è un discorso molto commerciale perché vi farò vedere che la foglia dell'aloe vera è una foglia ricchissima di gel e quindi ha una resa commerciale notevole non così è la foglia dell'aloe arborescence un'altra cosa molto importante però da dire è questa che la foglia dell'aloe dovrebbe essere utilizzata nella sua interezza cioè utilizzare sia il gel e sia la parte esterna la buccia perché questo perché nel gel sono contenute delle sostanze che si chiamano mucopolisaccaridi che sono che svolgono un'azione anti infiammatoria e tra tante patologie che possono curare sono veramente un toccasana per tutti i problemi di infiammazione alla mucosa dello stomaco quindi parliamo di gastrite di ulcera ecco perché avendo questa sostanza filamentosa va proprio a a proteggere a rivestire le pareti dello stomaco e quindi svolge la sua azione anti infiammatoria e un altro utilizzo invece è per quanto riguarda la parte esterna quindi è la buccia e sono gli antrichinoni che sono delle sostanze amare ecco infatti la parola aloe significa amaro perché questa sostanza è contenuta nella buccia della foglia si chiama aloina ed è amara quando noi tagliamo una foglia ci accorgiamo che contiene questa sostanza perché secerne un liquido giallo ed è questo e tra questi antrichinoni ce n'è uno in particolare che si chiama aloina ed è una glicoproteina ed ha una funzione importantissima nelle patologie tumorali nello specifico porta alla apoptosi della cellula tumorale altri utilizzi della pianta e sono ad esempio se dobbiamo cicatrizzare una ferita se dobbiamo curare una piccolo problema di dermatite e un problema di gonfiore alle gambe ecco gli utilizzi sono tanti sono tantissimi ecco io consiglio veramente a tutti di avvicinarsi a questa pianta perché avere una una pianta di aloe in casa è come avere una piccola farmacia questo che vedete è un oleolito che ho preparato con l'aloe vera l'oleolito è un macerato oleoso in cui viene messo al suo interno come vedete a macerare la foglia dell'aloe qua ho utilizzato l'aloe vera l'ho tagliata a fette e l'ho messa con olio evo extravergine di oliva vera lasciata al sole per circa 30 giorni un mese dopo di che il prodotto va filtrato l'aloe avrà ceduto all'olio in questo tempo tutte tutti i suoi principi attivi utilizzerò questo olio arricchito di aloe per realizzare degli unguenti unguenti che sono curativi un altro prodotto che possiamo ottenere con la foglia dell'aloe in questo caso utilizzeremo l'aloe arborescens è una crema nutriente che va utilizzata per il viso per il corpo e per le mani e questi prodotti come vedete è una crema colore verde è dato proprio dal succo di aloe arborescens si aggiunge della cera d'api dell'olio di mandorle dell'olio di riso il tutto viene frullato e si ottiene questa questa cremina vorrei proprio far notare che non ci sono conservanti è un prodotto assolutamente naturale al 100 per cento chiaramente la conservazione è limitata nel tempo diciamo che si manterrà due o tre mesi in luogo fresco non ci sono conservanti insegnerò a preparare questi prodotti sia gli unguenti e sia le creme ma anche il frullato curativo ricetta di padre romano nei corsi che regolarmente sto facendo negli anni e nello specifico il prossimo sarà nel primo autunno a stacciola di san costanzo sarà un corso teorico pratico e ci saranno tre incontri serali chi fosse interessato ecco può accedere alla pagina facebook amici aloe oppure al mio profilo sanchioni vanda e troverà tutte le informazioni che desidera prossimamente ecco vorrei anche far notare che a mondolfo 5 e 6 settembre ci sarà un convegno al chiostro di sant'agostino convegno dal titolo natura e benessere e in questa occasione alla domenica alle ore 15 terrò una conferenza sull'aloe ecco l'importanza dell'aloe per la salute e il benessere della persona chi fosse interessato ecco l'incontro è gratuito aperto a tutti vorrei concludere questo incontro con tutti voi ricordando che avere una piccola pianta in casa è un po' come avere una piccola farmacia domestica facciamo tesoro di questo un carissimo saluto a tutti voi